Grazie per la visione! Il ballo della rara Napoli Centro contro Old Football, quinta giornata Super 8, in stato di 2-0 per Napoli Centro, andiamo a intervistare i protagonisti. Portiere, che cognome? Natale. Natale, 2-0, avete iniziato un po' maluccio, però poi dopo piano piano siete usciti fuori e avete fatto due gol. Sì, l'importante è giocare bene e vincere. Cosa ci vuole il secondo tempo per portare a casa questa vittoria? Ancora altri gol. Come state giocando adesso nella seconda metà del primo tempo? Un po' di più, bisogna giocare un po' meglio e bisogna vincere. Va bene, complimenti in bocca al lupo. Andiamo da Old Football, a Picella, 2-0 avete iniziato bene, però poi siete calati man mano durante la prima volta. Il gioccio è spietato, se non concretizzi le occasioni che crei prendi sempre gol, è una legge vecchia ma non si conferma sempre. È efficace. Nel secondo tempo cosa ci vuole? Nel secondo tempo dobbiamo continuare a giocare così, solo un po' più convinti sotto volta e il gol arriverà. Va bene, in bocca al lupo. Buonasera, appena terminato il match tra Napoli Centro e Old Football, finito per 6-3 a favore del Napoli Centro, con noi migliore dei suoi per l'Old Football, De Rosa, migliore in assoluto postigione. Iniziamo con De Rosa. Avete giocato bene, però loro diciamo che in più a voi avevano un po' più corso. Vienamente d'accordo, abbiamo venuto sul piano l'Atletico e si è arrivato un po' al secondo tempo, poi loro in difesa non si sono mai disuniti, credo che sia stata la chiave della partita. Tecnicamente non siete stati in favore a loro, però... Tecnicamente non si discute, ma atleticamente abbiamo perso sul piano l'Atletico e credo che la differenza l'abbia fatta proprio la difesa compatta. Hai fatto un bel ball, un puro attaccante, hai approfittato, anticipando il portiere, hai facilito anche bene la squadra, si vede. Se per fortuna mi sarebbe stato meno bravo il difensore che mi mancava, hai fatto qualcuno. Sicuramente, vabbè. Un saluto a De Rosa. Arrivederci. Abbiamo postigione, la medaglia di migliori in campo, i nostri due buoni, i nostri sponsor, postigione. Come ha detto De Rosa, impeccabile in difesa, una marcatura stretta. Se sono difensore, questo è il mio compito. L'attaccante loro era molto forte, molto fisico, quindi abbiamo fatto un bel scontro uno contro uno, sì. E che possiamo dire, dopo i due acquisti delle ultime due partite, c'è stato un po' in tutto. Diciamo che oltre a fare ottimi interventi difensivi, potavi palla, uscivi palla a piede, hai servito anche un assist a Melito, ha fatto gollo. Comunque è una partita perfetta. Sì, sì. Come ha detto anche lui e come hai detto anche tu, abbiamo vinto, possiamo dire, sul piano fisico, perché loro giocavano molto più pallone a terra, erano molto più intelligenti didatticamente. Eravamo sul piano fisico, eravamo anche, secondo me, l'età un po' più bassa. Ha distrutto bene le occasioni. Le nostre carte abbiamo giocato. Vabbè, un saluto a postigione. Ciao. Ciao.